benvenuti a valbrembo oggi voleremo con questo agliante siamo pronti in pista agganciati a un aereo che è qua davanti che aspetta solo il nostro segnale per portarci in volo tagliamo a bordo e vediamo come funzionano questi aglianti eccoci nel cockpit un paio di cose da segnalare prima di cominciare al decollo io logicamente ho fatto tutto il corso tutti i tutorial presenti sul simulatore ma devo dire che non coprono proprio tutti gli aspetti una cosa che non coprono sono i comandi da impostare per poter pilotare questo aereo uno necessario sono gli speed brakes che io ho semplicemente assegnato alla manetta e gli speed brakes sono questi spoiler che salgono sulle ale e ci permetteranno di atterrare un altro comando importante è il pitch trim che avrete quasi di sicuro già impostato ma vi consiglio di spostare su un asse abbastanza fine perché lo userete molto spesso in combinazione con la barra un pulsante dovreste assegnarlo al tasto per sganciare il cavo naturalmente uno per alzare abbassare i carrelli ce l'avrete già e potrebbe essere utile uno per togliere l'acqua di zavorra acqua di zavorra che non ho ben capito come cosa serve come funzioni ma certamente è utile per il decollo perché altrimenti l'aereo sbanda troppo in fase di decollo qui abbiamo la velocità questo è un variometro abbastanza complicato qui c'è il variometro normale e ci dà più dati e ci dice come regolare l'aereo per essere più efficienti durante il nostro volo direi che più o meno abbiamo detto tutto a parte il fatto che questo strumento ha un suono è molto importante che è spento di default su questo aereo ma si alzando questo volume si sente parleremo di questo suono una volta in volo decolliamo segnalando all'aereo da treno battendo la coda muovendo la coda da destra a sinistra un paio di volte ora l'aereo da treno dovrebbe aumentare il motore perfetto e comincia a tirarci il nostro obiettivo è stare abbastanza allineati con l'aereo non sbandare troppo raddrizzare le ali e provare a decollare perfetto siamo andati un po sull'erba ma non è stato un grande problema per raddrizzarsi si intende tenere le ali dritte e il timone abbastanza centrato bene ora sentite che il suono è intermittente questo ci dice che stiamo salendo ne approfitto per chiudere il carrello l'aereo ci porterà su un percorso preimpostato a questo punto dovrebbe aver tirato sui flap procederà dritto per un po poi tirerà 180 gradi e tornerà verso il campo volo poi mi sembra che vi rimuovamente ma a quel punto quando saremo sul campo volo io sgancerò il cavo naturalmente stiamo ancora salendo l'altimetro è non è molto leggibile in realtà da questa posizione e probabilmente sì ci dovrebbe essere un altimetro andiamo più vicino esatto altitude anche su questo strumento che ha dentro un po tutto sia la velocità sia i rate di salita e discesa ecco che cominciamo la virata nel mentre possiamo stare anche su questa visualizzazione non vi ho fatto vedere la possibilità di visualizzare le termiche è nel pannello del meteo io preferisco per ora volare senza termiche e cercare di capire effettivamente dove possono essere le termiche senza che mi vengano mostrate dal simulatore un altro aiuto con il che ho disabilitato è quello dell'aiuto del dell'aereo da traino che mi mostra un quadrato attorno all'aereo quando sto sbandando troppo rispetto al cavo ma è abbastanza semplice basta avere l'aereo davanti a sé e siamo a posto come vedete mi sta ancora portando in alto siamo a 800 metri a questo punto e cominciamo avere il campo volo alla nostra sinistra a questo punto tra poco inizierà una nuova virata e sarà il momento in cui io sgancerò andiamo un pochino alti rispetto all'aereo da traino e aspettiamo che cominci la prossima virata siamo a 950 metri abbiamo una bella strada in discesa davanti a noi ed eccoci qua allora la velocità più o meno deve stare sui 100 110 il c'è un indicatore rosso blu sul sistema che ci dice più o meno come dovremmo puntare il nostro muso a questo punto io sto ancora agendo parecchio sulla barra ma logicamente per aiutarmi sto trimmando in modo da non dover tenere sempre la barra la barra in tensione allora a questo punto sentite questo suono stiamo più o meno veleggiando con una leggera discesa quando sono diventa intermittente stiamo salendo segno che forse abbiamo incontrato una termica direi che possiamo andare verso quelle montagne e più o meno poi girare indietro e provare ad atterrare allora questa dovrebbe essere ogni tanto arriva un po di vento dovrebbe essere la città di bergamo ho paura che qua a scendere rimaniamo in una zona coperta dall'area oggi il cielo è sereno quindi non dovrebbero esserci particolari termiche una cosa che dice nel tutorial è cercare di andare sotto alcune nuvole che dovrebbero avere una spinta ascensionale e qui penso che abbiamo trovato la termica della di questa montagna alla fine poi il volo con il con l'aliante è una caduta è un modo di cadere con stile diciamo così bisogna stare attenti a non perdere troppo velocità perché se questo aliante stalla c'è veramente poco da recuperare io proverei anche a mollare un po d'acqua vediamo se la situazione migliora mi piacerebbe riuscire a fare un cerchio attorno a quella antenna e spererei ci sia un po d'area in salita lungo il costone di queste montagne una delle cose che insegnano i tutorial è come stare sul lato giusto delle montagne e sfruttare la corrente per fare diversi chilometri ma in realtà oggi vorremmo solamente non precipitare e tornare a un certo punto indietro non so se questa questa antenna se fa parte dello scenario di base o è un pezzo dello scenario di valbrembo o addirittura dello scenario di potrebbe anche essere dello scenario di orio al serio orio al serio è alla fine laggiù più o meno dopo la città di bergamo allora siamo a 600 metri abbiamo perso già 200 metri rispetto a dove ci siamo sganciati e dovremmo avere abbastanza spazio per tornare indietro sembra che siamo ancora abbastanza efficienti il suono dovrebbe essere buono e ora stiamo addirittura salendo abbiamo riguadagnato qualche metro l'altitudine penso che sia barometrica quindi non dovrebbe essere la nostra reale distanza da terra e questa è una buona velocità effettivamente non stiamo facendo grossi disastri la pista è già in vista penso che potremmo atterrare senza grossi problemi devo solamente ricordarmi i carrelli proviamo a mollare tutto il resto della zavorra non vedo scendere acqua da questa visuale andiamo abbastanza lunghi siamo sotto i 500 metri qui c'è una ci sono delle colline che forse ci danno stanno dando una leggera spinta verso l'alto e l'idea a questo punto è allinearci e aprire i freni di spoiler l'aeroporto di Valbrembo penso che sia effettivamente un aeroporto da cui partono nella vita reale gli agli anti allora prima mi allineo e poi proviamo a andare di spoiler in realtà penso di poter fare un intero giro attorno ma si facciamo un intero giro finchè l'aereo tiene arriviamo almeno a 400 metri con un un po' di ecco c'è solo questo vento laterale ogni tanto che mi porta via le condizioni meteo sono reali l'ora del giorno in realtà no perché sto registrando questo video in serata e purtroppo essendo autunno staremmo volando col buio se fossi nel tempo reale però il meteo è reale in realtà si la giornata è ancora così molto serena c'è un po' di vento non tantissimo nella realtà ok vediamo in fondo all'aeroporto di Valbrembo che ci sono degli degli agli anti parcheggiati sto guardando la manica a vento in realtà sembrerebbe rivolta da questa parte quindi possiamo atterrare in questa direzione andiamo un po' fuori e poi giriamo per l'atterraggio ed è effettivamente abbastanza divertente anche per voli corti riuscire a volare con un agliante è qualcosa di completamente diverso logicamente dal volo a motore e che ogni tanto però sorprende con delle emergenze e situazioni dove in qualche modo l'aereo precipita speriamo non sia questo il caso abbiamo 400 metri da gestire può fare manovre anche più strette di così in realtà e ho aperto completamente gli spoiler abbassato il carrello e andiamo giù ecco appunto gli aglianti che vedevamo prima il vento, il vento gira effettivamente oggi o al traverso e abbiamo provato probabilmente rovinato un po' l'ala girandola a terra adesso spengo l'audio ci dovrebbe essere anche una batteria generale qua attorno che non ricordo eccoci qua perfetto e apriamo per questo volo con l'aliante è tutto e anche per questo diciamo mese di video su Fly Simulator riprenderemo con il nostro ritmo normale di un video alla settimana da qui in avanti e abbiamo ancora naturalmente un po' di contenuti della versione del quarantennale da vedere in particolare gli elicotteri che non ho ancora imparato a guidare e la 310 che non ho ancora imparato neanche ad accendere se vi piace questo genere di contenuti iscrivetevi al canale e se vi è piaciuto questo video lasciate un like i commenti sono naturalmente aperti e ci vediamo la prossima volta e ci vediamo la prossima e ci vediamo la prossima